Ho parlato con l'allenatore e quindi le sue parole sono state tanto per me perché mi stanno dando carica, fiducia e ovvio ho più responsabilità rispetto all'anno passato, però sono pronto, ho voglia di dimostrare e voglia di far vedere che sono in grado di avere questo ruolo. Siccome so dove e come devo migliorare, lo staff tecnico e atletico mi sta aiutando, ho dei programmi da seguire quest'estate e quindi sono qua a Biella per allenarmi e per cercare di migliorare e arrivare il più pronto possibile all'inizio del raduno. Noi siamo carichissimi, cercheremo di fare una stagione divertente ottenendo i massimi risultati che possiamo ottenere e quindi state con noi, non mollateci e abbiamo bisogno del vostro aiuto.